ginocchio e si è segretto anche la tele la tele tipo per tenere la gamba che stava dritta insomma che non ciappa con i monti su pesca e fa acqua sola qua e prossima settimana sua casa dal lavoro e quando che arriva fin qua l'acqua non va già bene qua punge quando si può sapere toccare per cui giocava l'acqua e metterà acido ialuronico che io mette qua il solito un curioso e questo è curioso buono pallonino dove pallonini tre pallonini quattro pallonini sono in dolce compagnia buonanotte